Women's Self Vision, oggi parliamo di miomi uterini con la dottoressa Ludovica Bartiromo, medico dell'unità di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dottoressa Bartiromo, che cosa sono i miomi uterini? Allora i miomi uterini sono un tumore benigno dell'utero e sono dovuti sostanzialmente allo sviluppo esagerato delle cellule muscolari lisce che compongono il viscere uterino e hanno anche un comportamento in qualche modo responsivo alla stimolazione ormonale. Spesso il termine di fibroma o mioma può essere in qualche modo sostituibile, sono sinonimi, esistono anche altre terminologie un po' più istologiche e specifiche quali per esempio lei o miomi o lei o miofibromi. È una patologia frequente? Sì, è una patologia frequente ed è attualmente il tumore benigno dell'utero più frequente in assoluto. È presente in circa il 35 per cento delle donne al di sotto dei trent'anni, quindi anche relativamente giovani e si stima che la sua prevalenza dopo i cinquant'anni possa raggiungere percentuali che si aggirano intorno al 70-80 per cento. Quali sono i sintomi? Allora, i sintomi sono spesso specifici per cui una donna può sospettare di avere una fibromatosi uterina nel momento in cui lamenta algie pelviche o addominali, un dolore anche irradiato o riferito in regione lombare, cicli irregolari o particolarmente abbondanti, anche una sintomatologia di gonfiore, pesantezza addominale può essere suggestiva di fibromatosi uterina e anche alle volte, più raramente per fortuna, possono accompagnarsi tutta una serie di sintomatologie urinario-intestinale laddove sussista anche una compressione a carico di queste strutture anatomiche da parte dell'utero deformato dai miomi. Possono inoltre essere presenti dolore durante il ciclo, infertilità o aborti ripetuti. È chiaro che la sintomatologia varierà in base al numero, alla localizzazione e alla dimensione dei fibromi, per cui un fibroma singolo di piccole dimensioni con sviluppo esterno all'utero, quello che si definisce un mioma sottosieroso, avrà una sintomatologia particolarmente blanda o potrà anche decorrere in modo totalmente asintomatico. Al contrario, un mioma di grandi dimensioni con un sviluppo prevalentemente intracavitario che comunque distorce la parete uterina o ancora miomi multipli si accompagnano invece più frequentemente ad una sintomatologia più consistente. Fattori di rischio. C'è da dire che relativamente alla fibromatosi uterina non è ancora nota un'eziopatogenesi ben definita. La letteratura ha indagato in numerosi studio quali possono essere i fattori di rischio noti e ad oggi quelli riconosciuti sono menarca precoce, cioè la prima menstruazione particolarmente precoce, la nulliparità, cioè il non aver avuto precedenti gravidanze, l'etnia africana, ma anche altri disturbi metabolici, quali per esempio l'obesità, il diabete o l'ipertensione arteriosa. E inoltre è importante dirlo, sebbene non esista una vera e propria trasmissione genetica per questo tipo di patologia, è stata riscontrata una certa familiarità, per cui un indizio potrebbe per una donna sicuramente essere quello di sapere che magari la mamma o la sorella sono affette dalla medesima patologia e quindi può essere uno spunto per eseguire accertamenti. Per quanto riguarda la diagnosi, quali sono gli esami consigliati? Allora, il primo step è sicuramente la visita ginecologica. Un ginecologo esperto, attraverso una visita mirata, può andare a ricercare quelli che sono i segni caratteristici di questa patologia, per cui andare a valutare le dimensioni dell'utero, la sua eventuale deformazione morfologica, la localizzazione, la dimensione dei miomi di dimensioni maggiori e anche la mobilità uterina. Poi ovviamente dirimenti anche l'esecuzione di un'ecografia transvaginale che ci consentirà di ottenere una stima molto più precisa del numero, delle dimensioni e anche della localizzazione dei fibromi, soprattutto del loro rapporto con la cavità uterina. Per quei fibromi che noi definiamo sotto mucosi, ovvero con uno sviluppo prevalentemente endocavitario, che sappiamo ad oggi essere quelli con migliore outcome, se corretti in termini di fertilità, può essere utile già in fase diagnostica all'esecuzione di un'isteroscopia, in quanto attraverso la visualizzazione diretta della porzione di mioma che aggetta in cavità, si potrà avere una stima appunto più precisa della quantità di mioma che si trova all'interno della parete e all'interno della cavità e quindi di ottenere un planning chirurgico più adeguato. Abbiamo detto che si tratta di tumori benigni dell'utero, ma per quanto riguarda l'evoluzione, qual è l'evoluzione dei fibromi uterini o se c'è una possibile evoluzione? Mediamente si stima che circa il 2 per 1000 di tutte le donne che sono state sottoposte ad intervento chirurgico per miomi uterini abbiano poi una diagnosi istologica di tumore maligno, quello che definiamo lei o mio sarcoma. Tuttavia sul discorso della degenerazione di un fibroma c'è ancora poco descritto in letteratura. Non sappiamo ad oggi se si tratti realmente di una patologia benigna che degenera in tumore maligno, oppure in tumori muscolari a comportamento incerto che vengono definiti anche stump, oppure se questi nascano in realtà di per sé come tumori maligni, quindi non si possa parlare in senso stretto di una vera e propria degenerazione. Ad ogni modo l'incidenza resta comunque particolarmente bassa, si stima che sia intorno allo 0,22-0,49% di tutte le donne affette da fibromi. Fibroma uterino e gravidanza? Sì, allora la maggior parte degli specialisti anche in realtà del settore tende a pensare che il fibroma uterino in gravidanza possa andare incontro ad una rapida crescita. In realtà la più recente letteratura ci ha dimostrato che non è esattamente così, ma che anzi il fibroma superato il primo trimestre in corso di gravidanza possa stabilizzarsi in termini di dimensioni o addirittura ridursi sino al termine della gravidanza. Per cui la maggior parte dei lavori conclude affermando che una donna affetta da fibromatosi uterina ha un rischio che tutto sommato è basso nei confronti di quelli che sono i suoi outcome ostetrici. Sappiamo di avere un fibroma uterino e cerchiamo una gravidanza. Cosa dobbiamo fare? Allora, il discorso dell'infertilità che può essere in qualche modo correlata alla presenza di un fibroma ancora una volta non è chiaro e anche la letteratura in merito ci fornisce delle risposte che non sono sostanzialmente certe. Sappiamo di certo che per i miomi che interessano la cavità, che quindi hanno uno sviluppo prevalentemente endocavitario e si definiscono sottomucosi o fibromi che si sviluppino nell'ambito della parete uterina e che ne distorcano il profilo, possano in qualche modo condizionare l'outcome ostetrico e quindi una loro correzione chirurgica in fase anche preconcezionale, cioè prima che la donna ricerchi una gravidanza può avere fondamentalmente un senso. È chiaro che comunque questa decisione va adattata caso per caso informando di tutti i trattamenti che abbiamo a disposizione la donna, consulentandola adeguatamente e quindi decidendo insieme alla paziente qual è l'approccio più corretto. Possibili complicanze in gravidanza? Sì, sono descritte per i fibromi uterini complicanze in gravidanza. Sono, come dicevamo anche prima, principalmente correlate a fibromi multipli o di dimensioni maggiori o che hanno delle localizzazioni che possano, tra virgolette, dare un po' più fastidio all'impianto di una gravidanza all'interno dell'utero. Sono fondamentalmente stati descritti rottura prima del termine di gravidanza delle membrane, la placenta previa che è un'inserzione anomala della placenta in corso di gravidanza, il distacco di placenta, malposizioni fetali durante il travaglio e problemi invece relativi alla fase immediatamente successiva al parto, definita di postpartum, come un mancato secondamento, cioè l'espulsione della placenta o la presenza di emorragie postpartum. Esiste una cura e le chiedo anche se sono sempre da curare? In realtà la fibromatosi uterina di per sé non è una patologia che a prescindere necessita di essere curata. Lo diventa chiaramente nel momento in cui questa sia sintomatica e quindi in qualche modo impatti sulla qualità di vita della donna oppure se intralci in qualche modo il suo percorso nella ricerca di una gravidanza. La cura attualmente consiste di una parte che può essere medica e che quindi consente di tenere sotto controllo la crescita del fibroma o di una parte di asportazione chirurgica con diverse tecniche. Recentemente inoltre sono state introdotte anche altre metodiche diciamo mini invasive come per esempio l'embolizzazione dell'arteria uterina selettiva, l'occlusione dell'arteria uterina, la termoablazione dei fibromi attraverso ultrasuoni focalizzati con guida attraverso risonanza magnetica. Tutte queste tecniche hanno in comune la selettività, cioè vanno ad agire specificamente sul fibroma o sul vaso che consente al fibroma di crescere, ma hanno ad oggi in letteratura ancora dei risultati sostanzialmente contrastanti delle indicazioni che restano molto selettive e specifiche. Grazie alla dottoressa Bartiromo, grazie a tutti per essere stati con noi alla prossima settimana. Se vi sono piaciuti i nostri argomenti potete iscrivervi al nostro canale.